Ciao a tutti cari amici amici del Toro, eccoci qui in mia compagnia, vediamo oggi le previsioni dal 12 al 18 dicembre 2022, grazie di quale per seguirmi sempre se vi va iscritti al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, vi ricordo che sono energie generali quindi non possono valere per tutti, per quello vi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanzia, benissimo cari amici, vi ricordo che poi sono aperti i miei consulti privati, personalizzati, proprio cuciti per ciascuno di voi, maggiori informazioni le trovate qui nel box, allora incominciamo amici e amiche del seno del Toro per questa settimana, vediamo il primo messaggio, allora abbiamo la voglia di rischiare e mettersi in gioco, carta 69, poi vediamo un arcano maggiore o minore, per voi del Toro, i sette di spade, ok, poi oracolo della vita o oracolo dei pensieri che sono sempre le mie carte, vediamo per il Toro, ok, poi vado a leggervi questa frase anche se potete comunque leggerla da voi e poi oracolo delle porte, una carta che può uscire al dritto o al rovescio, abbiamo la falsa porta è al dritto, carta numero 30, allora qui cari amici dovete ricordarvi che impossibile è solo un limite imposto da voi stessi, un limite imposto dalla vostra mente, non vi fate troppe pippe mentali perché non servono le pippe mentali, anzi guastano il tutto, c'è la possibilità di mettervi in gioco, di mettersi in discussione durante questa settimana, c'è la possibilità e anche la voglia da parte vostra di rischiare in una o più sfere della vostra vita, è importante buttarsi perché che cosa c'è di là dall'altra parte? Beh, se non vi buttate, se non rischiate non potrete mai saperlo, quindi nulla è impossibile, credete in voi stessi, credete in quello che diciamo state costruendo giorno per giorno, qui alcuni di voi vogliono proprio fuggire da una situazione limitante, da una situazione che diciamo sicuramente vi può star dando comunque delle problematiche, ok? Da puntista emozionale ma anche proprio problematiche che mi stanno facendo riflettere molto. Qui potrebbe esserci anche di mezzo un inganno, un tradimento, ok? Quindi dovete anche aprire un po' bene gli occhi, però è importante magari fuggire da una situazione, da un rapporto, però fuggire, ma è importante prima affrontare una situazione di petto, una situazione a testa alta. Una volta affrontata, anche se a volte è difficile, bene, mettete un punto, un punto che finalmente chiuderà quella dinamica o quel rapporto con una o più persone. Vi ha fatto del male quella persona? Ok, ci state male, riflettete, quello sicuramente, ma dovete andare avanti, dovete sperare in un futuro migliore e non rimanere nel grigiume dei vostri pensieri, delle vostre convinzioni limitanti, perché sono proprio quelle che vi limitano proprio nella vostra espansione, nella vostra espressività, perché voi potete donare tantissimo agli altri. Quindi se per caso vi interessa anche una persona, buttatevi, dovete esporre le vostre sensazioni, i vostri sentimenti, ma anche le vostre opinioni alle altre persone, sul luogo di lavoro, oppure da puntista familiare. E se per caso c'è un qualcosa che vi fa star male, bene, prima dovete parlarne, prima dovete affrontare questa situazione e dopo di che, diciamo, fuggite tra virgolette e abbandonate questa situazione per andare verso, magari, la quiete. Quindi, attenzione ai messaggi che vi voglio dare oggi le carte. Una cosa di cui dovete fare un po' attenzione, legando la falsa porta con questo sette di bastone, di spazi, che indica comunque degli inganni, dei tradimenti, è che qui ci sono delle situazioni poco cristalline. Qui potrebbero trattarsi di proposte anche allettanti che però non corrispondono a verità, o anche di una persona illusora che cerca di illudervi con false promesse. Ok? Quindi, è importante cercare sicuramente di aprire gli occhi, ma non è che quella situazione o quel rapporto devono per forza essere catastrofici o negativi. Ok? Può trattarsi di un qualcosa di ambiguo, o anche una persona che potrebbe abbindolarvi, oppure cerca di mostrarsi solo in alcuni, diciamo, in alcune sfumature per quel che è. Ok? È importante qua cercare proprio di aver voglia di mettersi in gioco e di mettersi in discussione. Anche se però magari non siete sicuri che state imboccando la strada giusta. Però se non lo fate come potete sapere cosa c'è al di là. Ok? Quindi, è importante essere saggi, è importante essere prudenti e in alcuni casi dovete un po' riconsiderare i vostri progetti e i vostri obiettivi. È importante basarvi sulle vostre forze, su voi stessi, anche se ciò magari potrebbe richiedere dei tempi più lunghi. Ok? Però, mi raccomando, lavorate proprio sul fatto che nulla, nulla è impossibile, se voi lo volete realmente. Ok? Benissimo, che amici vi aspetto sempre qui, sul Takomè. Ciao a tutte, alla prossima!